Allarme! La sua missione, se accetterà, le verrà comunicata al quartier generale. Questo scogliattolo si autodistruggerà, ma prima un balletto. Tutto bene, campione? Bene, benissimo! No, non sto bene, non sto bene! Ora vomito! Benvenuto al comando, canino! Tre ore fa abbiamo intercettato questo. Io schiavizzerò tutto il genere umano! Non potete immaginare quanto sia pericoloso. È il nostro peggiore incubo. Non abbiamo altro scelto. Cani e gatti dovranno lavorare insieme. Oh mamma! Questo nuovo collare ha un aprilucchetto, un acting e un laser ad aglio neon. Ed è tutto tuo. Bestiale! E a che serve? A tenere la targhetta col tuo nome. Ma che cosa... Adoro essere un cane spia! Non vedo niente! Cartellone, cartellone! Sono troppo vecchio per le canizze! È un uccello! È un aero! No, era buona la prima! Oh cavolo! Non aver paura, ti tengo la zampa. È vero che se ti gratto la pancia muovi la zampa? No, è una leggenda. Va bene, adesso basta. Sì, proprio lì. È un evento storico! Tre specie diverse che collaborano insieme per risolvere un mistero. Sarò all'antica, ma preferivo i vecchi tempi in cui ci odiavamo. Palla di pelo. Ah sì, la super botola. Ne ho già viste un'altra. Mi date una zampa? Cani e gatti. La vendetta di Kitty. Kitty! Sono tornato!